Consegnaci il tuo passato e riparti con più sicurezza! Mototecnica Isaia e Idea Moto sostituiscono il tuo vecchio capo di qualsiasi marca tuta, giubbino, casco o pantalone con uno nuovo di marca Dainese o AGV applicando sconti dal 25 al 30% Ma affrittati! L'operazione è valida fino al 30 giugno e solo sui capi disponibili Piazza Principe Umberto e Via Cilea, Napoli Grazie a tutti!